Salve, salve da Marco Calabro, io sono uno specialista del settore dell'arredamento, opero nel settore dell'arredamento dal 1974. Nel 1974 feci la mia prima fiera del mobile a Milano, il salone di settore dell'arredamento. Sono qua per conto di Alleanza Mobiliari per rispondere a delle domande dell'utenza. Oggi sto rispondendo a come scegliere il colore di un divano. Allora, innanzitutto c'è un fattore di gusto e quello deve essere il vostro. Quindi in questa cosa specificatamente non posso entrare in merito. Però ci stanno alcune caratteristiche che possiamo valutare. La prima caratteristica, per esempio, è la luminosità dell'ambiente. Che cosa vuol dire? Se è un ambiente particolarmente luminoso, possiamo permetterci di mettere dei colori scuri. Quindi dei colori che assorbano luce. Questo sicuramente negli ambienti luminosi non ha problemi. Se invece è un ambiente piuttosto piccolo e magari poco luminoso, magari è una stanza che ha solamente una finestra, a quel punto io andrei su dei colori che siano, dei colori che non rubano tanta luce all'ambiente. Quindi, per esempio, se dovessi scegliere un grigio, se nel caso precedente sceglievo un grigio scuro, qua dovrei andare su un grigio chiaro o un grigio medio chiaro. Parlando di grigio, grigio è uno dei colori di tendenza in questo momento. Sicuramente vanno bene dei colori come il beige, come l'avorio. I colori tipo petrolio, per esempio il blu petrolio, il verde petrolio, sono colori per ambienti più luminosi e magari anche più spaziosi. Quindi queste sono delle caratteristiche. Poi bisogna vedere anche il contesto d'arredamento che c'è all'interno dell'ambiente. Se è un arredamento, per esempio, che ha delle caratteristiche piuttosto classiche, devo o assecondare il classico che ho presente, o a mettere una tinta neutra, sarebbe preferibile invece mettere una tinta che spezzi completamente con l'ambiente. quindi un rosso vivace, quindi un giallo canarino, quindi un verde luce, cioè delle tinte che siano nettamente e volutamente in contrasto con l'ambiente dove andiamo a collocare il divano. Quindi sono una serie di fattori che noi dobbiamo tenere in considerazione nel momento che scegliamo il divano. Bisogna anche capire se è un divano in stoffa, se è un divano in pelle, se è un divano in ecopelle. Perché dico questo? Perché, per esempio, un divano in ecopelle o in pelle, anche se è una tinta chiara, avrà meno problemi di pulizia perché sono dei materiali che si puliscono facilmente. E' vero che anche per le stoffe ormai ci stanno i divani sfoderabili, però considerate che è sempre una gran fatica, un gran problema andare lì, svestire il divano, lavare con molta cura, con molta attenzione perché non restringa il rivestimento, poi rimontarlo. Insomma, sono cose abbastanza noiose. Quindi se riusciamo, non perché i divani siano sporchi, per carità, però è chiaro che su dei divani chiari con il tempo si vanno a vedere più delle cose che sui divani scuri neanche ci rendiamo conto, che non sono sporcizie, attenzione. Però è chiaro che le tinte vanno cambiando. Quindi anche questo bisogna tenerlo in considerazione. Che materiale stiamo utilizzando? Perché è un'ecopelle, una pelle, passiamo una spugna e via. Una stoffa, insomma, diventa più problematico. Diverso è per esempio la considerazione della microfibra. La microfibra si fa lavare con la maniera adeguata, ma si fa lavare abbastanza bene. Quindi anche questo aspetto dobbiamo considerarlo nel momento che andiamo a scegliere il colore di un divano. Grazie, grazie sempre per ascoltare i video di Marco Calabro e grazie ad Alleanza Mobilieri che mi sta dando l'opportunità di realizzare questi video di informazione all'utenza. Arrivederci al prossimo video.